5 cose che non sapevi su Minecraft Numero 1, puoi creare punti del genere in cui i blocchi decentrati sembreranno centrati grazie alle scale Infatti basterà mischiare un po' di scale insieme a dei blocchi normali per ottenere questo effetto Numero 2, puoi coprire la redstone grazie agli item frame Ti basterà semplicemente posizionare un item frame con sopra una mappa e questa sarà completamente coperta Numero 3, normalmente è impossibile rinominare un mob con il nome name tag o targetta Ma per farlo basterà semplicemente cambiare per qualche secondo la lingua del gioco e poi rimetterla normale Numero 4, in Minecraft grazie a un bug è possibile ottenere uno scudo infinito perennemente attivo Per farciò ci basterà entrare nel portale del nether con lo scudo attivo una volta dall'altro lato ce l'avremo perennemente attivo Quindi sì, i nostri amici scheletri avranno dei seri problemi Numero 5, posizionando le rail in questa maniera specifica una volta che ci faremo andare il minecart sopra Per qualche strano motivo andrà molto ma molto più veloce del solito Numero bonus, si narra che sia impossibile iscriversi col naso Provateci e fatemi sapere